Gli attrezzi che servivano a risalire, abbracando il troppo, rimane con la maniglia e il discesore. Adesso può anche togliere la maniglia, e rimane con l'attrezzo che ne serve per scendere. Il discesore può solamente usare con una figura. Si ritrovano gli attrezzi che non vanno da sfidio, e a questo punto con il braccio regoliamo la velocità. Si può cominciare a scendere, sia veloce che lentamente. Naturalmente l'attrezza penalizza, sarebbero stati in grado di farlo anche da attrezze maggiori, però i posti sono molto più alti e più profondi.